Un momento molto particolare, ieri un momento bellissimo perché il primo giorno di scuola è una sensazione bellissima, è una sise molto bella, ho conosciuto tanti colleghi nuovi e chiaramente adesso bisogna mettersi a lavorare, a lavorare a testa bassa per la regione, per l'interesse della regione, per questa provincia e di questa città. Tu in questo momento sei uno dei pochi rappresentanti della città di Pesaro in consiglio regionale, credo sia fondamentale lavorare per la collaborazione tra amministrazione regionale e locale. Sì, l'ho espresso in maniera molto chiara anche in un quotidiano locale di ieri perché penso che sia fondamentale la collaborazione tra l'amministrazione regionale e l'amministrazione locale e finché si possano raggiungere e perseguire gli obiettivi assolutamente comuni, soprattutto in un momento complesso come questo. In comune è la tua carriera politica, fin qui è stata l'opposizione, ora ci si trova dalla parte che conta, che conta di più, quella della maggioranza e quindi aumentano le responsabilità sicuramente. Aumentano le responsabilità ma lo abbiamo voluto, lo abbiamo meritato, adesso dobbiamo essere in grado di mantenere il programma elettorale e cercare di portare avanti tutti gli obiettivi in questo momento veramente complesso. E in effetti è un momento in cui c'è un governo nuovo alla regione ma non c'è il tempo del rodaggio? No, non c'è tempo, dobbiamo subito metterci al lavoro ed è quello che stanno già facendo la Giunta e di conseguenza il Consiglio regionale, non c'è tempo per fare tante riflessioni, bisogna solamente mettersi al lavoro nel modo più serio, più veloce possibile. Due temi caldi sono state infrastrutture e risolvere l'annoso problema post-sismico nella parte meridionale della regione, diciamo che questi temi in questo momento rischiano di essere scavalcati da un'emergenza sanitaria che incombe e che forse va davanti alla scaletta delle priorità. Chiaramente la Giunta è già al lavoro e al Consiglio su questi temi, come dicevi benissimo, legati all'infrastruttura e a tutte le altre tematiche legate al mondo del lavoro, delle aziende, ma in questo momento l'emergenza Covid sicuramente sta prendendo principalmente l'attenzione del Governatore perché è giusto porre l'attenzione in maniera molto chiara su questo problema che sta tornando fuori in maniera molto importante.